La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste. Il mio cliente richiede vostri servizi, signori. Un solo colpo. Un giorno di lavoro. Molto pericoloso. Io voglio sapere perché 27 uomini sono morti su quel moro. Per una partita di coca del valore di 91 milioni di dollari che non c'era. Kaiser, soldi! I soliti sospetti al cinema. I soliti sospetti al cinema.